Benedetta Primavera su Rai 1 con Loretta Goggi, inizia, come funziona e chi sono gli ospiti. Ora è ufficiale. Benedetta Primavera, il nuovo programma TV su Rai 1 con Loretta Goggi. Per cui il titolo si ispira alla canzone Maledetta Primavera, anche in sottofondo nei primi promo. Andrà in onda da venerdì 10 marzo 2023, dall'orario d'inizio delle 21, 30. La conferma della data d'inizio della inedita trasmissione con Goggi arriva dai primi spot in rotazione sui principali canali della Rai. Proprio in questi spot di Benedetta Primavera Loretta Goggi torna ad esibirsi a sorpresa. Almeno per ora imitando Guillermo Mariotto. Nel promo su Rai 1 Goggi replica in questo modo alla voce fuori campo che anticipa del ritorno in un TV del grande varietà. Ma è uno scherzo? Ho detto ballerini, sensualità, ma per favore dice l'attrice romana. Orrora alle prese con l'imitazione dello stilista e giudice di ballando con le stelle mentre alza la paletta per dare 0 come voto. Intanto, in attesa della prima puntata di Benedetta Primavera su Rai 1, già aggiungono da più parti le prime anticipazioni su chi c'è nel cast e sui vari ospiti in squaletta. In merito alle presenze fisse in trasmissione, infatti, D'Agosti anticipa i nomi di Luca Bizzarri e Paolo Chessisoglu. Saranno presenti in tutte le puntate svela il sito di Newsimente prima fondato da Roberto D'Agostino. Sul fronte ospiti, invece, ci pensa a TVblog a riportare le prime indiscrezioni dalle registrazioni, in totale dovrebbero essere 5 le puntate del nuovo show Rai di Lorette Goggi. In una delle puntate fanno sapere dal sito saranno presenti Pierpaolo Spollon, Diana Delbuffalo e Simone Montedoro. Tuttavia, sempre da blogo rivelano anche della possibile ospitata di Air Parisi. Per il resto, Loretta Goggi tornerà a confrontarsi con un nuovo show tutto suo anche a distanza di circa 15 anni da Miss Italia 2007. Tale edizione di Miss Italia apparve al pubblico a casa abbastanza turbolenta. Ancora oggi. Infatti, è nota a tutti la lite tra la stessa Goggi e Mike Buongiorno in prima serata su Rai 1. Beh, che altro dire? Benedetta Primavera sta arrivando. Grazie a tutti. Grazie.